Bella idea, bella idea, a dare tutti quantità, Floridea, Floridea, ma che idea? I tutorial di Floridea! Ben trovati a questo nuovo appuntamento con i tutorial di Floridea, oggi andiamo a conoscere un marchio importante, si chiama Lockerber, andiamo a capire di che cosa si tratta insieme alla nostra silla. Garden Floridea l'ha selezionato perché è un marchio molto interessante, nel senso che è un'azienda dove non lascia niente al caso, ama curare i minimi particolari in tutto e per tutto, si tratta di profumazioni per la casa, profumazioni di bastoncini e spray per gli ambienti, direi unico nel suo genere. Parli di grande attenzione a tutto, si parte proprio anche dal packaging? Quello sicuramente, hanno delle scatole con etichette in tessuto, hanno delle bottiglie che colorano a mano, hanno dei tappi particolarissimi fatti da artigiani, da artigiani che scolpiscono blocchi di legno interi per tirare fuori questi tappi, infatti non saranno mai uguali uno a uno, con dei legni pregiati, con delle essenze pregiate. Pensa che le essenze che contengono questi profumi per la casa sono pari al 20% che li trovi solo nei profumi personali, hanno dei meter profumieri che selezionano tutti gli oli essenziali per queste profumazioni. Lo Kerber sicuramente è un prodotto d'atmosfera e pensate un po' cura anche l'aspetto luminoso, cioè ci sono anche dei prodotti che possono essere illuminati, come? Come proprio dei gioielli perché hanno delle basi luminose LED che illuminano da sotto il profumo, perciò anche come oggetto d'arredo è unico, raffinato e prezioso. La gamba delle profumazioni non è ampissima, ma questa è proprio una scelta? Sì, è una scelta dell'azienda, infatti non ha 50 profumazioni, ne ha poche, però tutte selezionate perché hanno voluto usare oli essenziali, più che altro ricercatissimi, cose molto particolari. Hanno ampliato la gamma con delle candele, richiamando sempre la profumazione dei profumatori bastoncini. Silla, mi hai parlato che sono come dei gioielli, ma non costeranno come dei gioielli, spero. No, assolutamente, anzi sono molto in linea con altri prodotti che abbiamo. L'unica cosa che io posso dire, veniteli a sentire, perché è un prodotto che ne vale la pena proprio sentirlo, sentire queste profumazioni così particolari. Vi conquisteranno sicuramente. Lo Kerber è uno dei marchi di punta che sta andando alla grande per quanto concerne le profumazioni per la casa e lancia proprio un nuovo prodotto che qui al Garden Floridea è già presente. Di che cosa si tratta, Silla? Ha creato questa nuova linea che si chiama Venezia e oltre ad avere questa profumazione molto particolare, con tutti gli oli essenziali molto pregiati, in più il tappo, visto che Lo Kerber è sempre attenta al design, è davvero una cosa molto chic, molto raffinata. Questi tappi sono realizzati dalle briccole, che sono questi legni classici pali di Venezia che troviamo nell'acqua. Queste briccole che vengono cambiate ogni 20 anni, Lo Kerber le ha riutilizzate proprio per fare tutti i tappi, che saranno uno diverso dall'altro, ed è come portarsi a casa un piccolo pezzo di Venezia.